salve a tutti amici e amiche ben ritrovati allora diego tre giorni fa mi scriveva complimenti per la professionalità e la cura che metti nei tuoi video faresti un approfondimento sul film maverick ok che significa un approfondimento spero che tu intenda da un punto di vista di realismo visto che insomma è l'unica cosa che potrei fare quindi vediamo cosa riesco a fare attenzione per tutti quelli che non hanno visto il film vi avviso che ci sono spoiler quindi sta a voi decidere cosa fare non dite che non vi avevo avvisato come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale qui in basso a sinistra c'è il bottone per farlo allora premetto che il primo capitolo di questi due film cioè il primo top gun per chi massica di aviazione è la sagra delle idiozie con una sceneggiatura che tipo mio cugino con 30 mila lire faceva di meglio c'era un giovanissimo tommaso crociera che esordiva con frasi del tipo rallento e mi faccio superare oppure lassù non c'è il tempo di pensare se pensi sei morto ok lo so che questo film ha fatto sognare milioni di bambini negli anni 80 90 ma allo stesso tempo ha coperto di ridicolo tutta la categoria di piloti militari però però al contrario di quello che uno potrebbe credere e al di là della stupidità di rallentare e farsi superare qualcosa di vero nel primo film c'era un fondo di verità insospettabile che vale la pena ripescare prima di parlare del secondo capitolo allora per essere sintetici partiamo col dire che nel primo capitolo di questa saga il primo top gun si ispirava a fatti realmente accaduti cioè il film era uscito nel 1986 era stato prodotto con la sponsorizzazione della marina degli stati uniti perché si in america le forze armate spesso sponsorizzano i film e solo cinque anni prima proprio la marina aveva avuto il suo bel da fare nel golfo della sirte dove appunto equipaggi di f4 ed f14 si erano scontrati contro su 22 libici nella prima fase dei confronti non si era arrivati al lancio dei missili quindi i piloti si incrociavano e si intercettavano al limite dello spazio aereo proibito spesso i piloti americani facevano fotografie con la polaroid e i famosi gestacci che poi si vedono proprio nel film fino a quando la mattina del 19 agosto con il lancio di un missile da parte di un su 27 libico gli americani risposero con l'abbattimento di due di questi che questo scontro viene conosciuto come primo scontro del golfo della sirte inoltre curiosità non da poco ci sono altri film che si ispirano vagamente a quegli eventi quindi non solo top gun ma anche aquila d'acciaio e udite udite shotgun già il film comico con charlie sheen ma a parte questi eventi a cui si ispirava uno direbbe sì ma ci sono altre cose realistiche nel film sì prima di tutte la prima fra tutte e che accomuna entrambi i film è la scuola di volo united states navy fighter weapon school comunemente chiamata top gun le origini di questa scuola nascono dall'esigenza di fornire ai piloti imbarcati una buona preparazione al combattimento simulando scontri con aerei che per prestazioni ricordavano gli aerei russi come per esempio i vecchi sukhoi o il mig 29 o il su 27 storicamente gli istruttori infatti utilizzavano gli a4 skyrider che si vedono nel primo film e gli f5 proprio quelli che poi furono dipinti di nero nel primo film a partire dagli anni 70 e 80 gli allievi iniziarono a usare gli f14 e poi gli f18 anche questi si vedono nei film e ultimamente gli istruttori usano per lo più l'f16 che per prestazioni è più simile a un mig 29 negli ultimi decenni i piloti della marina statunitense volano soprattutto sull'f18 e anche se c'è poi un avvicendamento verso l'f35 e appunto gli istruttori continuano a usare gli f16 e gli f18 dal 1996 la scuola è stata trasferita in nevada integrando tattiche di combattimento aria terra oltre che quelle aria aria quindi le immagini che si vedono in entrambi i film vengono essenzialmente da lì escluso poi l'uso massiccio della computer grafica nel secondo episodio che è molto di più di quello che sembra specialmente per i su 57 che ovviamente non erano disponibili per le riprese comunque per concludere il discorso sul primo film dico solo due cose tutte le scene in cui si vede tom cruise in un abitacolo in realtà è in un capannone a hollywood in un abitacolo finto questo perché nonostante abbia insistito inizialmente per fare le riprese a bordo dal vivo poi vomitò l'anima in ogni occasione rendendo quelle scene inutilizzabili un'altra curiosità è che la scena in cui i motori delle f14 di maverick stallano passando nella scia di iceman durante un combattimento simulato e generando quella vite piatta che porterà alla morte del povero goose quella scena in realtà è molto realistica escluso il momento in cui poverino goose sbatte la testa col tettuccio quella no non poteva accadere quello è diciamo è un escamotage narrativo io parlo però dello spegnimento dei motori e della vite infatti la versione su cui volavano maverick e goose era la prima serie delle f14 che era afflitta da gravi problemi ai motori che andavano molto spesso in stallo e si spegnevano e bastavano manovre e g negativi oppure passare nella scia di un altro aeroplano per causare questo grave problema che fu risolto solo alla fine degli anni 80 con le nuovi con le nuove motorizzazioni quindi passiamo al secondo capitolo il film si apre con una sequenza di operazioni su portaerei che è molto bella con la stessa canzone che c'era nel primo film però qui si vedono i nuovi f18 e super hornet e gli f35 dopo di ciò vediamo finalmente tom cruise in un hangar dove c'è sullo sfondo un p51 mustang con il musetto e la coda rossa questo velivolo è suo nel senso che è proprio di proprietà dell'attore e lo ha messo a disposizione per le riprese si tratta in realtà di un aereo costruito nel 1946 quindi non ha partecipato alla seconda guerra mondiale i colori però il musetto rosso e la coda rossa sono un chiaro riferimento ai red tails una scodriglia di piloti di colore che volarono in italia nel 1944 da cui è stato fatto anche un film coprodotto da steven spielberg nella scena successiva tom decide di prendere la sua vecchia kawasaki gpz 900 che per chi con come me se la ricorda quella moto diciamo che andarci in giro senza casco dimostra che ti fa schifo la vita quella moto era la vedovatrice per eccellenza negli anni 80 e poi ovviamente in nevada come a napoli il casco è facoltativo ma va bene e quindi arriva il momento in cui mav deve fare un test con un aereo sperimentale chiamato dark star e deve arrivare a mac 10 dalla base si raccomandano mi raccomando mav mac 10 è non 10.1 non 10.2 10 ok quindi mettiamo subito le mani avanti quattro anni prima di questo film nel 2018 uscì un bellissimo film che si chiamava first man un film dedicato alla vita di neil hamstrong il primo uomo andato sulla luna bene questo film ha un intro identico con il l'attore che interpreta neil hamstrong che fa un volo sull x 15 quello fu un fatto vero fu l'aereo a razzo più veloce della storia che raggiunse mac 6,7 stiamo parlando di 7.214 km orari spesso causando incidenti mortali lo stesso neil ne uscì vivo per miracolo ora per far volare oggetti in atmosfera oltre mach 5 è veramente un'impresa risulta difficile farlo con i missili figuriamoci per un aereo con una persona a bordo che morirebbe per le vibrazioni il calore e i g poi diciamo che mav in questo film non manca mai di dimostrare che in realtà di pilotaggio sa poco e niente cioè sei lì alla massima velocità possibile a mac 10 dove basta un niente per darti tipo 40 g sul tuo corpo ucciderti all'istante con l'aereo che sta per diventare una cometa e lui che cosa fa toglie manetta e strattona la cloche ok questa cosa di strattonare la cloche poi ci torneremo però vi dico una cosa un segreto dei piloti e quelli veri se prendete in qualsiasi aeroplano anche l'ultra leggero più scemo di quelli più lenti monoposto tubi e tela che vanno tipo a 60 70 km orari se state lì che volate in volo livellato tranquillo a un certo punto strattonate i comandi secondo voi cosa accade l'aeroplano si romperà come minimo oppure provate a immaginare la stessa cosa con una macchina mentre andate a 100 km orari stersate di botto cosa accade bene infatti nella sequenza successiva si vede il dark star diventare una cometa precipitare in pezzi dalla troposfera per colpa di mav ovviamente cioè bastava togliere motore e aspettare no cioè un minimo però ecco lui si salva cioè se ne esce con la tuta un po bruciacchiata tutto qui questa credo che sia la cosa più inverosimile che io abbia mai visto in un film nella mia vita comunque sia la sequenza in cui lui entra in un bar con la tuta bruciacchiata il casco rotto è una chiara reference a un altro film che si chiama uomini veri un bellissimo film sui primi piloti collaudatori che superarono per primi il muro del suono fra cui c'era anche nel cast nonostante l'incidente e l'aver pilotato da schifo un prototipo unico ed aver causato il disastro tom in realtà viene premiato e mandato alla scuola di top gun perché cercano uomini con gli attributi with balls come dicono loro quindi non si sa perché ma arriva alla scuola di volo viene subito informato dell'obiettivo di missione in sostanza deve allenare i suoi allievi a volare in un canyon e colpire un sito dove viene arricchito l'uranio in territorio nemico quindi prendete star wars avete presente il film dove luke skywalker deve distruggere la morte nera volando nel canyon e infilare il colpo dentro il foro con precisione benissimo questa è la sceneggiatura del nuovo top gun maverick a hollywood hanno la cassa piena di effetti speciali ma evidentemente di sceneggiatori non se ne trovano manco a pagarli e quindi mav scopre che a difendere quel sito al centro di un vecchio vulcano c'è proprio un aeroporto vicino dove guarda caso ci sono i caccia di quinta generazione li chiamano così e anche quel vecchio f14 quindi si deduce che la nazione ostile è l'iran cioè l'iran è l'unico paese ad avere acquistato gli f14 quando c'era ancora la monarchia e non era il paese che odia le donne per definizione beh normalmente questa missione sarebbe stata una passeggiata per gli f35 che volano alti sganciano e se ne vanno eh però ci sono i jammer dei gps ok che è una cosa nuova che non ho mai sentito in vita mia e quindi con questo escamotage logico devono volare bassi con gli f18 ok poi fra l'altro è un po no discorso ma senza senza satelliti non si volava prima non c'erano non c'era il sistema di navigazione inerziale ma va bene poi è esilarante cioè viene espresso il fatto che ci sono tanti siti missilistici che impediscono il volo ad alta quota però nessuno dice che in realtà la port una portare una supercarriera americana americana può portare fino a 130 f18 ognuno dei quali può portare tipo otto tald o quattro agm 88 tutti insomma missioni specializzate per distruggere i siti missilistici quindi bastava lanciare qualche missione sead e il gruppo di maverick avrebbe avuto diciamo il passaggio libero ma va bene ci sono troppi salti logici per giustificare che insomma devono volare nella valle come per distruggere la morte nera di star wars e lui poi dice testuali parole se sopravvivi all'attacco è un dog fight fino a casa quindi il finale attenzione è stato telefonato a metà meno della metà del film poi vabbè c'è una storia d'amore riempitiva senza senso con un'attrice diversa dal primo film perché voglio credere che lì mcgillis a 66 anni un po sovrappeso non era disponibile a salire in moto una seconda volta e insomma questo è quello che ha fatto sapere come ho detto la storia d'amore è riempitiva non ha senso quindi possiamo proprio saltarla ma arrivano i primi voli con l'f18 allora i piloti che vediamo nel film in realtà non pilotavano cioè sono i passeggeri tutti gli attori non sono piloti fanno finta stanno al sedile del passeggero dell'operatore sull'f18 tutti gli f18 usati nelle riprese infatti sono biposto e i veri piloti della marina stanno davanti e si sono veramente divertiti a strapazzare gli attori e mi sarei divertito anch'io a farli risalire il cenone di capodanno per fortuna tom forte di dozzine di film in cui ha fatto la controfigura di se stesso a sto giro ha tenuto duro non come nel primo film però ecco si vede che soffre tante volte la testa umana per intenderci pesa dai 4,5 ai 5,5 chili e quindi a 5 g ne pesa 25 di chili a 8 g ne pesa 40 immaginate questo spiega perché i piloti da caccia così come quelli di formula 1 hanno tutti un collo grosso così per sopportare la testa a parte questo il tasto il cast ha fatto un ottimo lavoro nel soffrire con dignità e per non dare a vedere che usavano il pannolone a parte questo nelle sequenze di combattimenti simulati comunque purtroppo c'è un enorme quantità di computer grafica questo perché fare quelle manovre per addestrarsi è un po da stupidi cioè le faresti in una simulazione ma nella vita reale ci si impone delle regole per la sicurezza perché la vita del pilota si mette sempre prima di ogni altra cosa no per addestrarsi al combattimento manovrato che si chiama bfm e acm acronimi che indicano manovre di combattimento basiche e manovre di combattimento avanzate ci si impongono delle regole per esempio è vietato categoricamente scendere sotto certe quote poi ci sono due tipi di approcci in uno si può partire da una situazione di vantaggio dove uno sta dietro l'altro e chi è inseguito deve cercare di disimpegnarsi oppure si parte da una situazione paritaria con un incrocio frontale in cui dopo bisogna cercare di prendersi la coda questo diciamo questo tipo di addestramento in realtà non capita mai nella vita reale perché ci sono i missili c'è il bvr ci sono i sensori il discorso molto complesso è l'uno contro uno già per definizione non bisognerebbe mai accettarlo perché la vita del pilota viene prima di tutto quindi se tu incroci un aereo che ha prestazioni simili comunque ha il 50 per cento di possibilità non è che il manico fa la differenza è tutta una questione di fortuna però però i piloti comunque si addestrano a fare il cosiddetto volgarmente detto dogfight questo perché serve per migliorare il controllo dell'aeroplano nelle situazioni critiche situazioni di stallo a gestire meglio a sopportare i g insomma è un'esperienza che arricchisce il bagaglio del pilota ed è un peccato perché in tutte queste scene non si vedono mai i cockpit veri dell'f18 ma mfd che non hanno niente di realistico cioè sono finti sono stati messi in post produzione gli stessi elmetti dei piloti non sono realistici cioè sono stati usati per motivi cinematografici dove infatti deve vedersi sempre la faccia capire l'attore chi è e chi non è i piloti dell'f18 realtà montano un elmetto diverso con un visore che permette di vedere i dati proiettati sulla visiera e si integrano questi caschetti con le modalità dogfight proprio per l'acquisizione via casco dei bersagli visto che i sensori dell'f18 lavorano con 140 gradi di kimball ma va bene è un film si sa dove si manovra e quello migliore batte gli altri in destrezza quindi mav straccia tutti quanti strapazzando i comandi come faceva ben affleck in pearl harbor contro gli zero giapponesi cioè non importa che aero hai è la destrezza che vince il combattimento mi ha fatto specie comunque vedere strapazzato così l'f18 quell'aereo poverino ha un fly by wire super avanzato probabilmente se si strapazzano così comandi viene fuori bici imbetti indiavolata come una bestia nera scusate ma bici imbetti è tipo la voce femminile che si sente nell'abitacolo questa è una donna che ha prestato la sua voce su tutti i caccia americani è quella che si sente pull up pull up altitude tutte le volte per esempio comunque in perfetto stile hollywoodiano non si vede mai fare manovre verticali cioè la virata piatta sempre perché evidentemente le virate verticali non piacciono al pubblico americano quelli nelle proiezioni pilota dicono no no mettete via le virate verticali mettete solo quelle orizzontali che sono più facili da capire comunque in generale in questo film tutti trattano i comandi come vin diesel tratta il cambio in fast and furious né più né meno purtroppo smontiamo questo mito gli aerei da caccia si pilotano con due dita cioè si chiama volo di precisione apposta significa che meno strapazzi comandi meglio è cioè non è che uno è più ganso si strapazza i comandi bisogna essere puliti nel volo più si è puliti meglio si vola durante i combattimenti simulati c'è poco da dire quello che si vede non è realistico e computer grafica il 99 per cento delle volte e poi arriva il momento di prepararsi al volo nel canyon star wars time mav maverick che ormai è preso proprio dal ruolo di distruttore spiega che i caccia di quinta generazione del nemico sono letali ovviamente non si parla mai di su 57 però la sagoma è quella lui dice in un testa a testa con loro sei morto ok quindi qui nel film si fa capire che i su 57 sono avversari pericolosi però questi film almeno questo film ha fatto veramente tanti danni le persone poi ci credono e tipo oggi c'è per esempio una massa di italiani che probabilmente ha visto quel film ed è convinta che il su 57 russo è tipo l'aereo migliore del mondo è in grado di sbaragliare gli f18 americani insomma il migliore di tutti che se neanche tom cruise riesce a vincere riconosco però che il su 57 ha un aspetto esotico ed è decisamente più credibile degli f5 dipinti di nero e chiamati mig 28 del primo film comunque andiamo alla fine nel volo a bassa quota ci sono sequenze carine specialmente quando fanno l'overbank cioè l'aereo ruota di 180 gradi per cabrare e riportarsi in volo a bassa quota in quei momenti si vede che tom cruise sta soffrendo e questo mi è piaciuto vederlo insomma l'ho apprezzato quando colpiscono l'obiettivo gridano bullseye 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 non significa niente più o meno significa come bingo nel primo film quando abbattevano qualcuno e il bullseye e per convenzione internazionale semplicemente un punto di riferimento sulla mappa bingo che veniva usato nel primo film in realtà è una brevity che significa ho finito il carburante e ho solo quello che mi permette di rientrare alla base poi mi ha fatto ridere che a certo punto chiamano l'utilizzo del codice 1688 è una citazione che solo i piloti possono cogliere in questo momento cioè 1688 è il codice laser di base del sistema cioè non è quello che cambieresti nel senso è quello nativo della della del sistema generalmente quando si fa una missione si cambia questo codice perché se utilizzi il codice standard come dire bastava un omino sulla montagna con un puntatore laser per mandare a ramengo l'intera missione no cioè è un codice che non è segreto comunque arriviamo al momento più cruciale del film dove maverick riceve il primo missile e inizia a gridare radar warning smoke in the air break right ok ha trovato il tempo mentre un missile lo sta per raggiungere di dire tre frasi che non hanno il minimo senso se un pilota riceve un lancio dirà sam inbound o sam qualcosa sono comunque convenzioni dove sam si identifica la tipo di minaccia è molto specifico il potere delle brevity è proprio questo cioè sintetizzare concetti complessi ed evitare lunghe frasi e parole a sproposito le sequenze con i missili mi hanno veramente infastidito cioè potevano farle meglio e con meno computer grafica poi i missili ovviamente non si battono manovrando perché un missile può tirare tipo 40 g un imbecille che strapazza la cloche si ferma in aria e muore fine del film comunque scopriamo che questi piloti non sanno usare le contromisure perché anziché usare i pulsanti sulla manetta quelli che utilizzano i programmi decisano di premere tutti lo stesso bottone rosso sulla plancia di sinistra questo bottone rilascia tutte le flare in un'unica volta flare e chaff tutte insieme boom 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 via la prima volta e sono finite quindi in teoria il secondo missile che ricevono li avrebbe dovuto uccidere tutti ma tant'è questo bottone viene usato in continuazione in barba i programmi e i tasti dedicati studiati dagli ingegneri e va bene comunque alla fine tira e tira maverick viene abbattuto e anche il figlio di goose viene abbattuto così si ritrovano entrambi a terra e così decidono di rubare un f14 prima di parlare di questo faccio una premessa allora quando venne realizzato il film uno degli sponsor fu proprio digital combat simulator il simulatore che mi vedete usare significa che tecnicamente se impari a usare le f14 in digital combat simulator impari a usare le f14 vero quindi tutta la procedura di accensione della macchina rispecchia le f14 reale in questa parte del film infatti ci sono delle citazioni proprio al mondo di dcs che solo chi conosce le f14 reale ha potuto cogliere quindi è molto simpatico quello che succede quando mav e roster arrivano infatti nei pressi dell'aeroplano la prima cosa che fanno è mettere in azione il gruppo esterno che fornisce elettricità e aria compressa all'aereo senza il quale non pot i motori non potrebbero partire quindi questa parte è realistica è l'unica cosa realistica del film a dire il vero infatti ma maverick si raccomanda dice al roster tira sullo switch quando l'aria è pronta e ti do il segnale poi va bene entra in cockpit fa e preme delle cose inutili per il pilota sulla plancia ausiliare di destra però comunque a un certo punto si vede che aziona l'engine crank che di fatto ha bisogno dell'aria esterna per poter azionarsi altra cosa giusta roster prima di salire toglie il tubo dell'alimentazione esterna e stacca le sicure dalla in nove questo è abbastanza realistico e poi si siede al posto del rio dove no nel primo film c'era goose ed esclama o mio dio questa cosa è così vecchia pietà e poi è un po' triste che no il figlio di goose non sappia che le f14 alle ali a geometria variabile no però questo era un cliché per sottolineare che stanno volando su un aereo vecchio e va bene comunque è vero che le f14 poteva fare decolli molto corti infatti era studiato per essere imbarcato specialmente poi se molto leggero con soli 29 roster ovviamente non ha la minima idea di dove mettere le mani ma quelli switch non bisogna toccarli assolutamente tutti tutti i fusibili di cui parla dietro le planche ausiliari di destra e sinistra non sono fanno vanno toccati quelli erano solo per i meccanici ma bisogna essere veramente stupidi poi per non vedere che a sinistra ci sono le radio nelle f14 tutti il rio gestiva tutte le radio quindi le due radio vhf e vhf sulla consola ausiliare di sinistra erano lì bastava premere il selettore on e niente arriva il momento del contatto visivo con i due su 57 in perfetto stile hollywoodiano i piloti del su 57 sono vestiti di nero e hanno il casco nero perché sono i cattivi e hanno i costumi dei tie fighter di star wars tutto questo fa ridere perché se prendiamo un'immagine del suo 57 reale vediamo che i piloti russi non sono così fighi hanno il casco da 10 euro per il motorino comprato alla conan e la tuta di volo blu questo è questo è l'equipaggiamento dei piloti russi reali e comunque poi vabbè questo momento i piloti gesticolano con gesti senza senso a livello internazionale insomma se un pilota vuole essere eseguito semplicemente batte le ali e vira leggermente nella direzione in cui vuole essere eseguito questa diciamo la convenzione internazionale comunque a questo punto roster dice a maverick dobbiamo fare dogfight maverick dice un f14 contro un caccia di quinta generazione cioè nel senso non è che un caccia di quinta generazione vira meglio o peggio di quelli di generazione precedente voglio dire un f22 o su 57 se i loro piloti fossero così stupidi da accettare un combattimento manovrato perderebbero contro uno spitfire della seconda guerra mondiale per intenderci perché grazie lo spitfire vira in un fazzoletto un aereo da 20 tonnellate più e più e più impacciato cioè sono eric e devi virare come un biplano alla fine sono nel combattimento moderno esiste una cosa più importante anche più interessante che è non il concetto energetico però alla fine il film deve trasmettere l'idea che non conta l'aeroplano no è il pilota quindi maverick dice non pensare fallo fallo e lo fa infatti strapazza i comandi spara e prende il primo su 57 mentre l'altro gli è in coda ora i missili hanno un range minimo sotto il quale non si può sparare quindi a questo punto il pilota di su 57 avrebbe dovuto usare il cannone da 30 millimetri un bestione che avrebbe polverizzato in un istante un bersaglio enorme come un f14 però è un film quindi maverick passa vicino al rottame del primo aereo e il missile che viene lanciato su di lui colpisce quello e poi fa qualcosa di incredibile la boiata delle manette separate non non fatelo con f14 cioè cercare di fare una scampanata separando le manette con f14 vi porterà a una vite piatta e alla morte 100 per cento garantito quindi diciamo è un film è come con questa manovra maverick si mette in coda su 57 perché il pilota di su 57 rimane strabiliato dalla destrezza di maverick e così tutti i bimbetti nei videogiochi penseranno che basta rallentare strapazzare la cloche per farsi superare e vincere i combattimenti comunque quando si mettono in coda su 57 tirano un missile il pilota di su 57 fa questa cosa che tipo è un frullino viene chiamato frullino in realtà non è una cosa nuova la fanno da sempre tipo dalla prima guerra mondiale dai primi plan si fa questa manovra semplicemente è uno stallo dinamico accelerato che ti fa fare un frullino a mezz'aria dopodiché puoi riprendere l'assetto di volo però ma questa cosa non la sa non sa che si possono fare i frullini roster non la sa quindi rimangono completamente sbalorditi da questa cosa e overshootano il bersaglio quindi di nuovo il su 57 si mette in coda qui altro colpo di genio maverick punta il terreno perché dice il terreno confonderà il suo sistema di puntamento non succede così tipo neanche un aereo degli anni 50 aveva questo problema tipo un mig 21 comunque sempre simile combattimento tipo star wars il suo 57 spara con un cannone da 30 mm le f14 incassa qualche colpo che dovrebbe tipo aprirlo però in realtà solo scintille e poi di nuovo sorprendentemente funziona il rallento e mi faccio superare e maverick ritorna in coda quindi lancia l'ultimo m9 ma il pilota il suo 57 lo evade e poi maverick finisce lavoro con la vulcan sulla via del ritorno poi finalmente roster rimette un fusibile a posto il fusibile dell'u hf della radio questo qui che disattiva la radio u hf ma miracolosamente riattiva anche il sistema di navigazione inerziale il radar l'rvr che inizia tutto a suonare ok un bottone per tutto sullo schermo radar in un piccolo fotogramma si vede un contatto a 15 miglia ore 12 che sono circa 24 chilometri davanti a loro mav sentendo gli allarmi dell'rvr nonostante sia un veterano dell'f14 non gli viene proprio in mente di guardare lo schermo radar e non guarda nemmeno il pannellino dell'rvr ma invece si guarda attorno disorientato e si chiede ma dov'è è davanti a noi bastava guardare il radar e invece no si accorge dell'aereo davanti a lui pilota di su 57 non avrebbe potuto ucciderli senza che loro se ne accorgessero perché come su 27 su 57 ha un sensore passivo quindi locca aggancia e tira un missile termico senza farsi sentire però lui in questa situazione ha agganciato con il radar maverick sente l'allarme radar parte questo missile presumibilmente un missile termico e loro lo evadono di manovra e niente poi la cosa va avanti un po dopo l'incrocio su 57 super manovrabile finisce in coda inizia a sparare maverick si dà per spacciato e poi alla fine arriva la cavalleria il loro amico con l'f18 che fa esplodere il su 57 questo è il film quindi diego a te che mi hai proposto questo video per colpa tua ho rivisto questo film per la seconda volta nel senso non era un film che avrei rivisto cioè per carità è un bel film ed è stato fra l'altro il campione di incassi nel 2022 è stato acclamato dalla critica anche se avrei voluto sapere chi erano i critici ma per me no il mio voto finale è appena sufficiente 6 e sono stato buono cioè non è un film che consiglierei ci sono altri film più interessanti però comunque è un piacere vedere f14 volare f18 cioè le sequenze con gli aeroplani sono belle anche se c'è tanta computer grafica fra l'altro a gennaio 2024 è stato annunciato il terzo capitolo in lavorazione quindi vedremo e questo è quanto fatemi sapere nei commenti come sempre un abbraccio alla prossima